Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Weekend che inizia con tempo instabile e clima più fresco. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 1 luglio. Nuoosità irregolare al mattino con piogge e temporali sparsi soprattutto sul nord-est, regioni del centro e campani. Maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora instabilità soprattutto al nord e zone interne del centro-sud, più asciutto su coste tirreniche e isole maggiori. In serata e nottata precipitazioni sparse su coste adriatiche e tra Calabria e Sicilia. Variabilità asciutta sulle altre regioni. Temperature minime in calo al nord e in rialzo al centro-sud. Massime in calo soprattutto sulle regioni del centro. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.